buongiorno a tutti ovviamente oggi voglio estendere i miei auguri di una buona pasqua a voi tutti soprattutto alle famiglie di monte grotto i cittadini di monte grotto e in maniera particolare a tutte le persone che stamattina come il sottoscritto si sono svegliate per andare a lavorare perché lavorare nei giorni di festa significa lavorare più più del normale appunto per garantire un servizio a tutti gli ospiti che vengono ancora nei nostri alberghi e a tutte le persone che decidono di festeggiare la pasqua nei ristoranti della nostra zona detto ciò nonostante il tempo sia un po incerto per chi decidesse domani nel giorno di pasquetta di fare la classica scampagnata a villa draghi lo invito a dare un'occhiatina in che stato in che stato versa il rustico di villa draghi che è appunto quello stabile vicino al parcheggio e per chi decide di andarsi a fare la passeggiata fino alla villa fino ai prati sopra la villa così di dare un'occhiatina in che in che è stato versa la nostra villa dopo che sono stati spesi è stato speso qualche milione di euro per sistemarla vi ringrazio vi auguro ancora una buona giornata una buona pasqua per chi festeggia e anche per chi lavora e ci vediamo alla prossima ciao